Abbiamo Umberto Cavallito alla batteria, Emanuele Cavallito al basso, Giuseppe Todino alla chitarra, Mattias Ciampini alla chitarra e Chiara Chirone alla voce. Primo brano? Call me. Voi siete? The call? E quindi fate? Call me? Che è un brano di Blondie. Secondo brano è My song, What you did in the dark, dei Fall Out Boy. Alla voce miti. Alla voce miti. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione